Il Carbon Capture and Storage, secondo Eni, è un processo che permette di catturare e stoccare la nitrite carbonica per evitare che si diffonda nell'atmosfera. Un altro passo per un futuro low carbon. A caccia della CO2. Il Carbon Capture and Storage nella realtà. Una tecnologia costosa che per difendere l'uso delle fossili sottrae risorse alle vere soluzioni. Un modo per continuare a bruciare gas e nascondere la CO2. Vai su lebuggiedieni.greenpeace.it